Test antigenici rapidi di massa di Nuovalvia a Pescara nelle giornate di sabato e domenica. Il luogo è il solito, il palafiere di Fontanelle in Viatirino. I 2445 posti disponibili sono stati già prenotati sulla piattaforma del sito del Comune e così l'amministrazione ne ha aggiunti altri prenotabili da oggi fino a esaurimento, la conferma dall'assessore Eugenio Seccia. Proprio questa mattina abbiamo avuto interlocuzione con i sanitari che hanno dato la propria disponibilità e potremo aumentare le linee a disposizione nella giornata di sabato per intero e di domenica mattina con 7 postazioni e non più 5, dando la possibilità cumulativamente a 1600 pescaresi in più di poter fare questa test antigenici rapidi. Quindi ci si può ancora prenotare a partire da oggi? Sì, potranno prenotare molto agevolmente sul sito del Comune oppure chi non può farlo può anche farlo chiamando il COC eventualmente, ovviamente a titolo di servizio ulteriore da parte del Comune fare la prenotazione, però è davvero semplice quindi è possibile farlo autonomamente. Per rendere ancora più snella tutta la trafila, i cittadini quando arrivano al palafiere di Pescara devono presentarsi con tessera sanitaria da poter essere identificati e successivamente verrà loro praticamente processato il tampone saranno richiamati esclusivamente nel caso di positività dell'esito del tampone. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale medico che fa su base volontaria questa attività, la Croce Rossa italiana e ovviamente le associazioni di protezione civile che vanno a coordinare tutte queste attività importantissime in un momento storico molto delicato per la nostra città. Per quel che riguarda invece le vaccinazioni per gli over 80, queste continuano nel palabecci del porto turistico anche se in questo caso l'attività è prettamente di natura sanitaria. Stiamo dando il supporto logistico attraverso la chiamata alle soggetti che devono essere somministrati il vaccino su elenchi esclusivamente elaborati dall'ASL di Pescara. Quindi l'effettuazione della telefonata sarà nostra, sarà nostro il servizio di distanziamento e così possiamo dire il loco da parte degli operatori di protezione civile e l'attività è svolta interamente dalla ASL. Grazie a tutti.